è partito con due clip ma sono un'ora e passa e ne facciamo così quindi diventerà un video a parte lasciate like iscrivetevi al canale ciao vi raccomando il giorno facciamo un po di condizionamento di kickboxing thai box sia perché io voglio iniziare a fare i kick sia perché lui tra due giorni ha un conto contro alex multiversa lo distruggo proprio lo spacco quindi oggi il mio compito è fargli da sparring partner oggi più che altro lavoreremo un po più sulla tecnica cioè cerchiamo di condizionare bene i movimenti cominciamo con un po di vuoto allora dai vediamo simulare il compattimento di kick vediamo l'avversario originario andiamo a colpirlo e cambiamo la combinazione 3 minuti così adesso facciamo un po di lavoro tecnico sempre cercando di creare delle combinazioni e lavorare sempre sui riflessi e sulla tecnica e niente non ci meniamo ma cominciamo a dare ai primi contatti hai avvastardo la miglia è fratturata ogni volta che mi tocca fa male però vabbè adesso proviamo per condizionarla all'incontro contro multiversa io simulerò di essere multiversa mentre andiamo piano sia parare che entrare benissimo buongiorno la miglia è rinpsima bene questa è una cosa che mi tocca fosse è ormai ovviamente con una cosa che mi tocca fa male ecco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi adeguo. È tipo Brody. Eh, lo sa. È partito con due clip, ma sono un'ora e passa e ne facciamo così. Quindi diventerà un video a parte. Lasciate like, iscrivetevi al canale. Ciao. Mi raccomando. Folla, eh? Ah! L'uccello d'acqua del sacro nanto. I suoi movimenti sono eleganti come quelli di un gabbiano che plana sull'acqua. Ma la sua potenza è così grande e crudele che niente si può paragonare ad essa. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Yeah, yeah, go. No! la tecnica della croce nera è una delle più antiche scuole di karate uccide i nemici in un istante e ha la caratteristica di avere un colpo velocissimo mani basta c'hai l'occhio ok Ok Vieni Sono pronto a un incontro Sì sì sono pronto Mi sono divertito Anche io Devo cominciare a lavorare un po' di più sulle gambe Sono un po' debole Se vi stai chiedendo perché ho la barba A metà da tutto il video Esce un altro video a proposito di questo Che sta sul canale Ci vediamo nel prossimo video Ci vediamo in un prossimo video Mi raccomando like Iscrivetevi Se in questa tipologia di video random In cui facciamo un po' di sparring Stiamo migliorando piano piano Lo riporto Poi magari un giorno lo fa con me l'incontro Ci sta a condizionare Quando sarà fondissimo Ma non lo stesso penso perché pesa tanto Ciao ragazzi Lascia il like Iscrivetevi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi